ecco che è arrivato la cascata al cobaleno ma come riusciremo ad arrivare fin laggiù? te lo mostro io wow poi andare giù per il grande scivolo e così si raggiunge la pista di pattinaggio oltrepassiamo la porta della pecora coraggio wow quante pecore affamate per caso vedete la seconda porta? guarda eccola lì credo proprio che sarà super facile coraggio amici miei entriamo in azione toglietevi di mezzo pecorelle e salpiamo si presa grazie mille amici oltrepassiamo la porta del gomitolo di lana andiamo io non vedo alcun gomitolo di lana no nemmeno io ma forse Big Sheep ha cambiato idea oggi voglio fare un bel quadro che cos'hai barba bravo? lassami in pace oltrepassiamo la porta del favone gli occhiali dalle lenti rosse la rossa rossella vedrebbe sempre tutto quanto rosso bravo draghetto desi sei un vero genio datti da fare amici state a guardare ora diciamo ciao a tutti quanti qua in cina per dire ciao in cinese diciamo ni hao tu riesci a dire ni hao per me è divertente che bravo ora dobbiamo recuperare quel tetto e io so già chi può aiutarci diciamo insieme oh toodles oh toodles toodles all'opera abbiamo dei cerotti un ventilatore gigante un braccio meccanico e lo strumentopolo misterioso quale strumentopolo può aiutarci per riportare giù il tetto e a tenerlo fermo? un bloc e il tetto